Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel coro, nel coro dei frati minori Cappuccini, per raccontarvi il motivo per il quale a volte Padre Pio era duro. Era duro con i penitenti, lo stiamo raccontando in diverse occasioni, ma a tutto c'era una ragione. Cosa era successo? Una signora inglese era venuta proprio qui a San Giovanni Rotondo per confessarsi da Padre Pio, ma quando lui la vide dinanzi alla grata del confessionale, quindi siamo nella chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie dove Padre Pio confessava alle donne, immediatamente le ha sbattuto volontariamente lo sportello in faccia e le disse io per te non ho tempo. Figurarsi la meraviglia della signora e di quelli che avevano assistito a questa scena, quindi si domandavano come mai Padre Pio avesse trattato in quel modo la penitente. Subito alcune figlie spirituali di Padre Pio si fecero un dovere di andare da lui, quindi spiegargli che quella signora era venuta proprio da lontano, era venuta dall'Inghilterra per confessarsi, quindi pregarono Padre Pio in tutti i modi di accontentarla, ma purtroppo Padre Pio faceva orecchio da mercante. La cosa andò avanti per circa 20 giorni, la signora che si presentava al confessionale e poi Padre Pio stessa scena, battene, respingeva. Alla fine lui però decise di confessarla, ma a lei che si lamentava di quella lunga attesa nei confronti di Padre Pio disse, e vado su virgolettato, povera cieca, invece di lamentarti della mia severità dovresti domandarti come mai la misericordia di Dio può accoglierti dopo tanti anni di sacrilegi. Sai che ciò che hai fatto è terribile? Colui che commette un sacrilegio, mangia la propria condanna e senza una grazia specialissima, ottenuta da anime molto vicine a Dio, non può salvarsi. Per mantenere apparenze di rispettabilità, continua ancora Padre Pio nei confronti della donna, non hai forse fatto la santa comunione per anni e anni, al fianco di tua madre, di tuo marito, mentre eri in peccato mortale. Beh, questa rivelazione folgorante di Padre Pio scosse profondamente la Signora, la quale si pentì di tutto il suo passato, si confessò, ottenne finalmente la soluzione e cambiò completamente vita, dandosi così una condotta intensamente cristiana che fosse una degna riparazione di quanto aveva fatto fino ad allora. Grazie a tutti.